Hey boys, benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi un ragazzo mi ha proposto una sfida nei commenti Ed era, se trovi Naruto, la skin di Naruto, il video finisce E quindi siamo qui per farla, insomma Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina E soprattutto di mettere like Altrimenti vi perderete i prossimi video che arriveranno qui sul canale E che direvi ragazzi, andiamo in game Allora, quindi, scesi Prendiamo le primissime cose Andiamoci a trovare degli scudi e nasconderci Com'è bello The Pyramid, però È una zona non come Pinnacoli Perché Pinnacoli ovviamente è un'altra zona con altri presupposti ragazzi D'altra parte però è concitata Ti permette comunque di giostrartela, di muoverti un po' È una zona piuttosto dinamica E sapete che è molto nel mio stile Quindi mi piace Qui ci sono dei kunai Sarebbe divertente colpire con dei kunai eventualmente Qualche d'uno con la skin di Naruto Però sento un po' di gen... Ah no, 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 mei, non è vero, non è vero Non facciamo così Scherzavo, scherzavo, scherzavo Per ora di skin io... Cioè, ma io non di skin, di gente non ne ho viste proprio Proprio il nulla più cosmico Attenzione Non mi era accorto che stava la piattaforma E anche a livello di loot Non è che queste ceste mi stiano dando sovra anche Non ha la skin di Naruto Questa cosa mi rigora Uh, grazie mille, man Che aveva? Uh, uh, uh Calmi, calmi C'è via roba carina Ah, questa è quell'arma che fa i buchi nei muri Ok So che arma è Da utilizzare come un fucile di precisione So che arma è, ragazzi È solo che... Non so quanto io la possa usare Quanto sono bravo È proprio quella che pensavo Mamma No, che skin è? Che skin sei? Non ti ho visto Non ti ho... Non ti ho... No, è da ru... No, è da ru... No, è da ru....